Noi siamo qua, oggi una delegazione di Forza Italia, direi al massimo livello, ovviamente incaricati dal Presidente Berlusconi, i due capigruppe ed io, per sottoscrivere e invitare i nostri militanti e i nostri iscritti a fare altrettanto nei prossimi giorni. C'è ancora un pugno di giorni per firmare questi referendum. Perché, come avevamo detto in un comunicato del Presidente Berlusconi, e come ha ribadito anche ieri durante il nostro ufficio di presidenza il Presidente Berlusconi, riteniamo che sia opportuno, immediatamente dopo queste elezioni, aprire con tutte le forze politiche alternative al centro-sinistra, che si riconoscono comunque uno schieramento di centro-destra e la Lega certamente è tra queste, ed è stato per vent'anni alleato storico del Presidente Berlusconi, un dialogo. Come è evidente che in questa campagna elettorale è stato piuttosto chiaro, e anche questi giorni di bilancio subito dopo, che noi condividiamo con la Lega, ma anche con altri alleati sempre dell'area di centro-destra, la diagnosi su molti dei mali che affliggono il nostro Paese e anche l'Europa per cui specificamente si è votato. E' altrettanto evidente a tutti, e non dico un segreto, che sulle cure abbiamo ricette che talvolta divergono, talvolta divergono in modo sensibile, talvolta divergono, a mio modo di vedere, in modo riconducibile ad una sintesi, ma questo insomma è programma per i prossimi mesi, non abbiamo nessuna scadenza ravvicinata e non abbiamo nessuna fretta. Avevamo semplicemente fretta di riallacciare un filo di un dialogo, che secondo noi è costruttivo per l'alleanza di centro-destra, per un'eventuale coalizione futura, per comunque i rapporti tra partiti che collaborano e hanno collaborato per anni. Cominciare dalle cose concrete è la cosa più facile di tutti, e quindi siccome la Lega e il segretario federale dei Salvini si sono sentiti col presidente Berlusconi, hanno condiviso il fatto che due, almeno dei referendum, avevano la simpatia del nostro partito, ma crediamo di larga parte degli elettori riconducibili al nostro blocco sociale di riferimento, ovvero l'abolizione della legge Fornero, su cui poi diffusamente i capigruppo diranno qualcosa in più, e la reintroduzione del reato di immigrazione clandestina, che in qualche modo ha costituito parte importante dell'esperienza di governo comune con la Lega. E quindi su questi due referendum era opportuno dare un segnale di attenzione. Credo che se cominciamo a confrontarci su soluzioni e problemi concreti delle persone, con iniziative politiche specifiche, su singoli punti che possono essere in qualche modo di sintesi per un programma, è un buon approccio per cominciare un dialogo che poi vedremo come potrà fiorire. Quindi, da questo punto di vista, io ovviamente da qua invito tutti i militanti, tutti i dirigenti, tutti i sostenitori e gli elettori di Forza Italia e del Presidente Berlusconi, a recarsi nei prossimi giorni, a firmare questi due referendum. Sarebbe importante che Forza Italia adesse un contributo rilevante e decisivo per il raggiungimento di questo obiettivo, e poi, come ho detto, il dialogo continuerà su altri punti, spero, credo ci sia anche la disponibilità a parlarci del segretario Salvini, con cui ormai incontrandoci quotidianamente in televisione ho un buon rapporto personale, anche perché dividiamo spesso sgabellini in vari studi in giro per l'Italia. Io lascio la parola, direi prima ai nostri due capigruppo e poi alla sintesi al segretario della Lega. Grazie Giovanni Totti, onorevole Totti, grazie onorevole Salvini. Vi ho mostrato questo PowerPoint per una semplice ragione pratica e operativa, che lo metteremo subito in rete e sarà lo strumento di comunicazione denso e intenso delle prossime ore, dei prossimi giorni, proprio per invitare tutti i nostri elettori, tutti i nostri iscritti a sottoscrivere il referendum, i referendum, poi sui referendum parlerà ovviamente il segretario Salvini. I referendum sono sei, questa nostra decisione è sottoscriverne almeno due, due, dopodiché ovviamente alla libertà, noi siamo un partito libertario e liberale, è liberale e libertario, di sottoscriverne anche altri, dal punto di vista ufficiale noi ne sottoscriviamo due. Per parlare del merito, questo non è solo ovviamente una sottoscrizione di due referendum, ma è un segnale politico molto forte che riguarda tra l'altro due norme, due leggi che hanno fatto parte del meglio della nostra esperienza di governo insieme. E riguardante la riforma delle pensioni che noi, il governo Berlusconi, aveva fatto, l'ultimo governo Berlusconi, ma anche il precedente, pensiamo allo scalone Maroni per quanto riguarda la riforma delle pensioni che fu abrogato scalone Maroni negli ultimi giorni del governo Prodi, ma che poi noi con il governo Berlusconi riformammo pensioni in chiave assolutamente europea con tre riforme che, a detta dell'Europa, erano il meglio del riformismo, del welfare sostenibile per quanto riguarda l'Europa. Sui coefficienti di trasformazione, sulla posticipazione della finestra di un anno, della finestra di pensionamento, ricordo la riforma sul pensionamento delle donne nel pubblico impiego e l'aggancio alla speranza di vita del montante pensionistico, il professor Giorgetti conosce benissimo queste cose, tre riforme più una che davano la sostenibilità, davano il superamento delle pensioni di anzianità, davano l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento, il tutto senza traumi, senza tragedie sociali, senza forzature, lasciando il giusto tempo di transizione e lasciando, come dire, sostenibilità dal punto di vista sociale. Cosa ha fatto Monti con la riforma Fornero? Ha spaventosamente accelerato i tempi, non ha lasciato i tempi di transizione e il risultato che ha prodotto danni sociali spaventosi in tema di esodati, in tema di iniquità e tra l'altro portando, sempre il Presidente Giorgetti lo sa come noi, meglio di noi, portando a una maggiore spesa pensionistica sul tema degli esodati che ad oggi e a domani è superiore al risparmio dovuto all'innalzamento così brutale e frettoloso dell'età di pensionamento. Quindi abbiamo prodotto danni sociali spaventosi, traumi sociali spaventosi e di fatto nessun risparmio, semmai maggiori costi. Sacro Santo, quindi, è l'abrogazione della cosiddetta riforma Fornero e di fatto il ritorno alla normativa precedente, quella del governo Berlusconi nei tre punti che vi ho detto, coefficienti di trasformazione, aggancio alla speranza di vita e finestra posticipata di un anno più la riforma dell'età di pensionamento delle donne nel pubblico impiego. Secondo referendum è quello del ripristino del reato di clandestinità che era stato una bandiera sempre dell'ultimo governo Berlusconi portata e prodotta dal ministro Maroni che pur tra le critiche e la non collaborazione da parte della magistratura aveva consentito la deterrenza nei confronti dei nuovi flussi e la deterrenza nei confronti dell'effetto annuncio. L'abrogazione del reato di clandestinità e la sua trasformazione in sanzione amministrativa ha di fatto prodotto l'effetto opposto. Vale a dire ha fatto un effetto annuncio al contrario. Venite, venite che si può. Il risultato assieme ad altri fattori ha provocato l'invasione che tutti abbiamo visto in questi giorni anche se non particolarmente enfatizzata come venivano enfatizzate minori invasioni del passato e che venivano attribuite alla responsabilità del governo adesso abbiamo tra virgolette invasioni 10 volte 20 volte 30 volte 40 volte quelle del passato eppure nessuno ne parla anzi col termine mare nostrum si dà un'indicazione di controllo perché mare nostrum aveva il significato che era il mare sotto controllo della potenza imperiale repubblicana imperiale romana in realtà mare nostrum è un mare come dire in mano ai trafficanti di esseri umani circola in rete una bellissimo spot non so se l'avete visto sulla linea del viaggiare informati è immigrare informati dove si danno le indicazioni è una parodia naturalmente però pare che sia la realtà quando i barconi partono immediatamente vengono date le comunicazioni alle nostre operatori in zona dicendo guardate che sta partendo il barcone al tale punto di mare coordinate marine eccetera eccetera ci può essere l'incontro per cui c'è il taxi servizio taxi eccetera questo non è mare nostrum questo è un grande imbroglio che fa male a tutti fa male ovviamente innanzitutto ai agli esseri umani che sono le vittime di tutto questo fa male all'Europa agli unici che fa bene ai trafficanti di esseri umani allora la reintroduzione del reato di candestinità ha questo significato segnalettico che noi non possiamo accettare questo tipo di migrazione da offerta e noi non vogliamo essere complici di tutto questo e naturalmente tutto questo poi va messo sul tavolo dell'unione dell'unione europea per questo noi convintamente per queste ragioni politiche convintamente aderiamo a questi due referendum che sono il ritorno alla nostra politica dell'immigrazione del governo Berlusconi e alla nostra politica di welfare sostenibile sempre del governo Berlusconi per quanto riguarda la cancellazione della cosiddetta riforma Fornero Paolo innanzitutto un augurio di buon lavoro agli onorevoli Giovanni Totti e Matteo Salvini il segno del rinnovamento della politica della sua classe dirigente passa attraverso anche il consenso che Giovanni e Matteo hanno tenuto in termini di centinaia di migliaia di voti e questo penso che sia un segno di salute anche della politica vorrei fare alcune sottolineature di carattere generale la prima queste elezioni hanno segnato due novità il successo sicuramente di Matteo Renzi ma anche forse il ritorno a un sistema bipolare più maturo la regressione in termini di consenso di voti del movimento di Grillo ci pone finalmente di nuovo nelle condizioni di poter valutare per il nostro paese un sistema bipolare maturo gli 11 milioni raccolti dal PD ma anche gli 8 milioni e mezzo raccolti dai movimenti che comunque fanno riferimento al centro-destra la dico non mi viso lunga sulla capacità del nostro sistema di essere ancora un sistema bipolare per quanto ci riguarda la presenza nostra oggi significa che noi abbiamo incominciato un percorso di ricostruzione di quel rassemblement vorrei dirlo alla francese di centro-destra che ha come destinazione a mio avviso alla prossima appuntamento delle elezioni politiche di una costituente di una coalizione di centro-destra che però non può essere fatta non può essere costruita nelle segretarie dei partiti noi dobbiamo ricominciare dal paese dalla gente dai cittadini dall'associazione che li raccolgono i 18 milioni di voto che hanno rappresentato il serbatoio naturale del centro-destra nei momenti di successo sono il tradizionale bacino elettorale a cui noi ci rivolgiamo il mondo è anche cambiato la proposta politica è profondamente cambiata non possiamo riproporre gli stessi schemi gli stessi progetti che hanno forse fatto il loro tempo ma dobbiamo ricominciare ad avere fiducia in questo tipo di progetto oggi è un momento di passaggio valutare insieme con la Lega la sottoscrizione di due non tutti di due referendum su temi comuni ci mette nelle condizioni di ricostruire anche con la Lega con la quale siamo al governo in Lombardia e nel Veneto alcuni passaggi comuni certo ci sono alcune distanze la posizione della Lega premiata dall'elettorato sull'Europa è la posizione dura no euro che corrisponde a mio avviso nella proposta iniziale nostra di contraddizione forte all'eurocrazia di Bruxelles ma che per quanto ci riguarda non porta al rifiuto definitivo e finale dell'euro ma a una soprofonda modifica ma comunque ha delle basi comuni forte contrasto a quello che si è costruito nell'eurocrazia tedesca di stampo tedesco di Bruxelles che ha privilegiato le nazioni del nord Europa e ha penalizzato fortemente fortemente le nazioni mediterranee quindi per quanto ci riguarda e concludo velocemente oggi per noi incomincia un lungo percorso nell'incontro lungo tormentato di ieri dell'ufficio di presidenza abbiamo posto le basi proprio di questo progetto comune io mi auguro partendo proprio della Lega che dal 2000 con noi ha partecipato a tanti governi con noi partecipa a tanti governi regionali ci auguriamo che un percorso comune fatto sulle cose concrete come crude referendum ci possa portare a un esito comune non sappiamo con quali contenuti definitivi non sappiamo con quali tempi ma incominciamo un percorso la novità sta anche nelle persone nuove che rappresentano i due movimenti la novità sta anche nel non riproporre cose che abbiamo già riproposto io penso che ci sia la possibilità e soprattutto la sconfitta della protesta fine a se stessa delle urla fine a se stessa degli insulti fine a se stessa senza una proposta sia spero un esperimento della politica italiana che sia a conclusione e mi auguro che anche oggi sia un passaggio importante per questo percorso io sono fiducioso perché nell'Italia che vuole uscire dalla recessione nell'Italia che vuole riproporre se stessa per quel grande paese che è e devo dirvi faccio una notazione e un complimento a Matteo l'ho sentito parlare di italiani l'ho sentito parlare di agrumi siciliani l'ho sentito parlare di porcellini sardi vuol dire che anche la Lega Nord ha un'ottica una visuale che comincia ad arrivare a tutto il paese incomincia a farsi carico di tutti i problemi del paese negli equilibri nelle definizioni delle linee che sono tipiche della tradizione leghista ma che sono finalmente diciamo noi anche all'interno di una logica nazionale dove forti però sono le proposte forti sono i progetti e forti a mio avviso sono anche le possibilità di ricostruire un percorso comune ecco il motivo perché oggi siamo qua ed ecco perché il motivo che siamo qua fiduciosi di quello che ci aspetta io ringrazio Silvio Berlusconi ringrazio gli amici Forza Italia perché ci sono pochi giorni e mancano poche firme e quindi questo è il vero terreno di sfida per il chiacchierone Renzi non possiamo inseguirlo sulle promesse visto che il coltello dalla parte del manico del promessificio c'era lui però possiamo sfidarlo sul campo delle proposte sui due referendum sostenuti forza Italia non aggiungo altro uno potrebbe firmarlo anche Renzi che sta cercando di cancellare enti inutili sta cercando di trovare soldi le prefetture sono state definite da Luigi Einaudi nel 44 un ente inutile che ripugna la democrazia noi abbiamo fatto due conti e si risparmierebbero quasi 500 milioni di euro cancellando le prefetture e delegando agli enti locali quelli che oggi sono compiti esercitati spesso poco e spesso male dai prefetti quindi mi piacebbe che qualcuno chiedesse al super votato di Firenze perché perché non va a firmare questo referendum un altro un altro il secondo più firmato per il momento è quello che da euro parlamentare ho constatato funzionare in Svizzera in Austria in Germania in Olanda ossia la regolamentazione della prostituzione l'Italia ipocritamente fa finta di niente mentre invece si calcola che le 80 mila professioniste professionisti di tutto di più e per tutti i gusti che ci sono esercitano in mezzo alla strada gestite dal racket con tutti i rischi anche igienico sanitario oltre che di sicurezza che ne conseguono avere dei luoghi puliti protetti controllati e dare diritti e doveri a queste persone diritti e doveri penso al pagamento delle tasse come per qualsiasi altro libero professionista è qualcosa che funziona in metà del mondo sviluppato e quindi mi piacerebbe che funzionasse anche in Italia a di là delle ipocrisie del merito che cosa succede da domani che nei comuni si può firmare fino a martedì c'è pure il ponte del 2 giugno in mezzo però manca veramente poco io penso che il contributo degli amici di Forza Italia possa essere quello che negli ultimi due o tre giorni mi segnalano file nei comuni da nord a sud per firmare quindi manca veramente poco faremo un'ultima tornata di gazebo al nord evidentemente dove siamo presenti come Lega Nord nel weekend del 7-8 giugno e quindi conto che ci arriveremo per il referendum sull'immigrazione clandestina c'è un mese in più lo dico agli amici di Forza Italia perché l'abbiamo depositato un mese più tardi rispetto agli altri quindi la scadenza per l'immigrazione clandestina è a fine luglio quindi su questo c'è anche tutto giugno e i primi di luglio da sfruttare per arrivare a quota 500 mila e poi sarei curioso nella primavera prossima di vedere l'approccio del governo Renzi se ancora ci sarà un governo Renzi di fronte a quella che penso potrebbe e dovrebbe essere una valanga da parte dei cittadini e degli italiani su questi quesiti comincia un percorso speriamo io non 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 do mai e se lo faccio sbaglio non voglio dare consigli agli altri e ben mi guardo dal commentare quello che succede in casa di altri quindi noi abbiamo avuto le nostre vicende e fortunatamente ne siamo usciti come il dato elettorale dimostra il centrodestra che fa il centrodestra vince in tutta Europa poi ci si può sedere nel PPA ci si può accordare con la Le Pen però se il centrodestra fa il centrodestra quindi non mi appassiona il dibattito sugli uomini sui nomi sulle primarie io le primarie le farei sui progetti se il centrodestra difende la famiglia fa il centrodestra se il centrodestra difende i confini fa il centrodestra se il centrodestra difende gli artigiani e i piccoli imprenditori rispetto alle multinazionali fa il centrodestra e quindi io sono convinto che su questo possa e debba rinascere un centrodestra c'è un pezzo di centrodestra solo di mome che in questo momento è al governo e penso che debba continuare a stare il governo altrimenti sparisce dalla faccia della terra però ne parleremo in occasione future è vero che sui progetti di centrodestra Lega e Forza Italia governano bene in tantissimi comuni anzi l'appoggio della Lega a tutti i candidati di Forza Italia ai ballottaggi in tutti i comuni del nord è garantito ovviamente ci sono partite importanti da Bergamo a Cremona a Pavia a Padova e quindi penso che possa essere un bel segnale di collaborazione e poi faccio gli auguri agli amici di Forza Italia perché di riunioni tempestose ne abbiamo fatte tante anche noi quindi anzi dopo il temporale viene fuori il sole di solito a meno che non non succeda qualcosa di strano e quindi è chiaro che nessuno di noi vuole fare passi affrettati visto il percorso di questi anni è chiaro che non si parla di una riedizione di una sommatoria di sigle perché non sarebbe utile né per la Lega né per Forza Italia però se nel percorso comune tanto c'è siamo tutti sotto la guida illuminata di Matteo Renzi quindi l'importante è quello che fa lui noi siamo sotto possiamo solo fare piccole cose quindi e nell'attesa che la stella cadente cada noi ci stiamo organizzando per il dopo e quindi sono assolutamente fiducioso sul fatto che che il centrodestra che vince in Francia vince in Austria vince in Ungheria vince ovunque faccia il centrodestra tornerà a vincere in Italia ecco l'unica cosa se ci sarà alleanza non ci sarà contro non funzionano le alleanze contro abbiamo visto il voto a Grillo chiedere il voto contro qualcuno non funziona chiedere il voto per fare qualcosa sì e quindi se il centrodestra difende l'agricoltura italiana rispetto alle multinazionali del resto del mondo se difenderà il turismo del nostro paese io parlo di Italia sì ma continuo a chiamarmi Lega Nord per l'indipendenza della Padagna però io penso che a metà giugno andrò a Maletto mi sono impegnato questo comune siciliano dove la Lega ha preso il 34% che è la percentuale che abbiamo preso a Sondrio quindi non posso non andare a Maletto anche perché mi ha detto che ci sono delle fragole stupende quindi a metà giugno nel giorno delle elezioni probabilmente il segretario della Lega Nord non sarà non sarà in Valcamonica né nella sua Milano ma sarà in Sicilia perché quella al centro-sud è una scommessa che abbiamo fatto non in campagna elettorale ma che vogliamo vincere anche dopo la campagna elettorale rimanendo autonomisti federalisti o indipendentisti detto questo nessuno deve snaturare il suo essere spero che che fra un anno ci si ritrovi in questa sala con i referendum che saranno una bella sberlona al governo Renzi visto che lui queste proposte difficilmente purtroppo le sosterrà e con un centro-destra che è centro-destra e quindi se la giocherà per vincere l'anno prossimo ci sono elezioni regionali importanti in Veneto in Emilia in Liguria quindi quindi no io stavo su stavo facevo il segretario della Lega Nord io ho capito poi collaboreremo anche anche in Calabria però non so quanto però ci vogliamo arrivare pronti ripeto sui progetti oggi mi hanno chiamato i giornalisti ma allora le primarie il centro-destra chi si candida e chi se ne frega è l'ultima delle mie preoccupazioni facciamo le primarie anzi no le primarie facciamo un progetto se poi il progetto concorda va bene altrimenti chi vivrà vedrà non ci sono forzature da fare ci siamo risposti in diretta domande domande da parte dei colleghi De Angelis a questa conferenza stampa secondo quanto non ti chiedi sarebbero venire la tua assenza è stata letta anche se il giorno di oggi quasi non è un non metterci la faccia domanda perché non è venuto Berlusconi e una seconda domanda a Salvini è evidente che da oggi è ricominciato un percorso per arrivare alla costruzione di un'alleanza politica oggi Forza Italia ha sottoscritto due suoi referenti random lei aveva incontrato la Le Pen porrà come condizio sine qua nonne per un'alleanza politica la sua battaglia per l'uscita dall'euro cioè chiederà Forza Italia di uniformarsi alla sua posizione di uscire dall'euro rispondo io alla prima non c'è un solo Berlusconi qui oggi ce ne sono tre uno si chiama Totti l'altro si chiama Brunetta l'altro si chiama Romani quindi non uno ma tre non ci sono condizio sine qua non da porre noi preferiamo stare con Marine Le Pen perché riteniamo che l'euro abbia vita breve quindi nell'arco di qualche mese si parlerà di una moneta del passato fortunatamente però non siamo qua a imporre niente a nessuno ci mancherebbe altro Buon pomeriggio Tabaglione di Schettigi 24 volevo chiedere visto che lo avete citato nei vostri discorsi soprattutto Salvini il rapporto con il nuovo centrodestra se in questo progetto in questo cammino comune c'è la possibilità che ci sia un figlio al prodigo chiamiamolo così che adesso sta al governo e che invece potrebbe essere una parte un pezzo del nuovo centrodestra se c'è qualche se la porta rimane aperta per gli uomini di Alfano Ma vede visto che ho introdotto io il ragionamento volevo risponderle come ho detto nella mia premessa non possiamo fare questo percorso immaginando di farlo nelle segretarie del partito quindi non ci sono figli al prodigo che tornano che vanno posso dirle lo posso dire in termini polemici non mi sembra che l'esercito elettorale del nuovo centrodestra stando al governo sia stato straordinario perché se sottraiamo i voti dell'Udc che possiamo ancora conteggiare a quelli ottenuti mi pare che il risultato non sia poi quello che si aspettavano e che molti vantavano in esordio ma noi non abbiamo piacere a dire che qualcuno che c'è vicino o che c'è stato vicino o che non c'è più così vicino non abbia avuto un successo elettorale ma non è questo il problema come diceva giustamente Salvini un centrodestra non lo ricostruisce come addizione lo ricostruisce tornando in mezzo ai cittadini italiani sui temi concreti sulle proposte concrete ricostruendo un progetto di centrodestra se poi a quel progetto a quelle cose a quella continuità quotidiana di presenza ci vorrà stare anche qualcuno che oggi impropriamente deco io sta al governo può darsi che noi non abbiamo nessuno le porte sono aperte come le finestre altre dietro dietro Mario Franco Cautigi 3 per Forza Italia il fatto che la Lega abbia appena sancito stia sancendo in Europa un accordo con la Le Pen non vi imbarazza voi che puntate come dice Berlusconi a riunire i moderati scusa la Lega non siamo mai stati siamo stati alleati alcune decine di anni in questo paese stando in Europa in gruppi parlamentari diversi non vedo perché adesso adesso c'è una novità che la Lega in Europa si sta alleando col Front Nazionale la Lega in Europa fa le sue scelte che mi sembrano assolutamente legittime il Front Nazionale è stato votato da alcuni milioni di francesi ritengo che se l'Europa è un continente che si deve basare sulla democrazia abbia piena titolarità di stare seduta in quel Parlamento e di fare le alleanze che crede noi restiamo convintamente all'interno del Partito Popolare Europeo con tutte le perplessità sulla linea politica del Partito Popolare Europeo di questi anni stiamo nel Partito Popolare Europeo perché è la nostra famiglia d'origine per la maggior parte stiamo nel Partito Popolare Europeo perché riteniamo che sia il posto dove stare per incidere su questo abbiamo certamente sfumature e visioni diverse certamente la linea del Partito Popolare Europeo dettata dalla Cancelleria di Berlino non ci ha convinto in questi anni non ci convince adesso proveremo a cambiarla in tutti i modi possibili quello che ci unisce in questo momento alla Lega di Salvini è un ragionamento che questa Europa così com'è è destinata al fallimento forse su questo posso permettermi di scavalcare a destra o a sinistra Salvini non so dove è il caso di scavalcarlo ma io ritengo che il tema non sia l'euro io ritengo che il tema sia che se non si apre in questo Parlamento Europeo una stagione costituente che cambia le fondamenta di questa Europa questa Europa franerà e non franerà solo la sua moneta perché un'Unione Europea che non ha la fiducia dei cittadini su cui vuole governare un'Unione Europea che non convince gli stati come l'Italia che è il terzo contributore girando la testa dall'altra parte sull'immigrazione e su un sacco di temi un'Europa che costa i cittadini italiani in saldo negativo rispetto a quello che diamo e quello che torniamo circa 5 miliardi di euro è un'Europa che non esisterà più se non la cambiamo tra 5 anni quindi lo sforzo di tutti è di cambiare profondamente le istituzioni europee i trattati che le regolano e la politica della Banca Centrale Europea la Lega ritiene che sia un percorso da fare prendendolo da un lato credo che abbia tutto il diritto di provarci noi riteniamo di farlo nella casa dove siamo stati in questi 5 anni appena passati penso che anche noi abbiamo il diritto di farlo se le due strade portano poi a un incrocio dove ci si ritrova comune abbiamo ottenuto i risultati che servono al popolo italiano e allo Stato italiano avremmo fatto avremmo fatto entrambi la scelta giusta se non riusciremo a cambiarlo il tema dell'euro alla fine sarà anche superato perché imploderà addirittura l'Unione Europea non solo la sua moneta mi permette di aggiungere che trovo incredibile questo allarme per la nostra alleanza con Marine Le Pen primo partito in Francia anzi siamo è stata lei a dire di non volere ali estreme nel gruppo e quindi di non voler neanche dialogare con i greci piuttosto che con gli ungheresi anzi siamo i moderati lì dentro perché ci sono pericolosi estremisti scherzi a parte chiunque sia legittimato dal voto popolare è legittimato dal voto popolare quindi non ritengo che nessuno si possa permettere di dare etichette di democraticità di praticabilità politica a chi che sia soprattutto al primo partito di Francia adesso non stiamo parlando di primo partito di Francia votato dagli operai delle periferie parigine e dagli immigrati regolari che vogliono limitare l'immigrazione clandestina quindi penso che sia un argine al razzismo il voto a Marine Le Pen altro? vi ringraziamo grazie se volete qualche copia di questo powerpoint